Let's go bitches, prima di parlarvi di questo gameplay voglio fare una piccola intro e dirvi due cose Per prima cosa io non sto cercando di fare gameplay assurdi, di fare nuclear, di giocare per le 100 o più Sto cercando di portare gameplay belli da vedere in cui faccio tante chili, in cui vi mostro la skill e il divertimento che metto io giocando E' per questo che non voglio cominciare a fare il pub stomper perché voglio continuare a fare il pro player, il competitive player Sperando di farlo, se non ci riuscirò ovviamente il public player, il pub stomper Sarà ovviamente una grandissima e bellissima soluzione, più che altro pure per il divertimento che mi dà fare pub stomping su Call of Duty Oltre a questo voglio dirvi un'altra cosa, oggi sarò alle 5, live sul canale Liquid, trattino basso, Gaming, trattino basso Quello su cui ero online ieri ma potrete vederlo su Facebook, su Twitter che condividerò il link Sarò live sempre per un streaming fatto in collaborazione con l'Activision e i pro player dei Liquid Quindi spero di vedervi in tanti durante lo streaming, let's go bitches Let's go bitches e benvenuti a questo commentare su Black Ops 3 Voglio darvi un pochino di informazioni o comunque del mio feeling giocando a Black Ops In sottofondo c'è una partita in cui ho fatto più di 80 kill, niente di che, più che altro perché ne avrei potuto fare 100 Se gli avversari non quittavano Ma sti cavoli, parliamo un pochino di Black Ops 3 Quello che mi è piaciuto e di quello che non mi è piaciuto ad ora Il gioco, la sensazione da giocarci è molto bella I movimenti, questi qui che hanno aggiunti tra s-jump, il jetpack, la corsa sui muri e la scivolata Non sono così rompipalle o un must da usare come lo era in Advanced Warfare Il gioco sembra essere ritornato al vecchio posizionamento tattico che c'era sui vari Call of Duty Che da Ghost, poi, Advanced Warfare si era un po' perso Per quanto riguarda il gameplay, il gioco ricorda molto Black Ops 1 Non Black Ops 2, mi ricorda molto Black Ops 1 Ma ci sono delle cose che trovo sinceramente scomode Spero di riuscire a mandare qualche feedback all'Activision Per farli magari cambiare o comunque avere la mia opinione Sinceramente non mi è piaciuto il fatto che quando sto mirando e una persona mi spara addosso Pure da dietro, da sinistra, avanti, eccetera, eccetera, la mia arma salta Questo mette una componente molto, diciamo, più basata sulla fortuna che sulla skill Perché basta che io miro un po' più in basso, la mira mi si alza e faccio headshot Magari non lo prendo Quindi magari l'avversario spara anche per secondo Gli si alza la mira e mi fa headshot e mi uscite Questa cosa è molto random Toglie un po' la skill del gioco Per il resto il bilanciamento dei perk lo trovo ottimo Anche se io metterei un perk forse come acciaio O almeno metterei direttamente all'interno del gioco Che le armi non si alzano se ti sparano addosso Si potrebbe fare tranquillamente una cosa del genere Le armi sono molto belle e varie Molte sono forti, molte sono deboli Per esempio negli SMG ho trovato il Vesper, il Razor, il Bec e il Kuda Le migliori, il Vesper soprattutto penso sia il migliore tra tutte Per quanto riguarda gli AR quelli che ho provato e che ho trovato migliori Sono il Manowar, lo Sheiva e l'M8A7 che avete visto L'M8A7 per chi lo chiede se non assomiglia molto all'M81 Ma a me ricorda molto il FAMAS di Modern Warfare 2 Volevo anche dirvi che se vi piace questa cosa Io sfrutterò questi video che farò su Black Ops 3 Per fare delle classi overpower in modo che potrete provare Quelle che sono le armi con i loro migliori accessori e i loro migliori perk E vi farò vedere ovviamente dei gameplay dove farò un bel gameplay Vi mostrerò come usare l'arma e vi darò un po' di spiegazioni su come funziona E quali accessori mettere Oltre a questo il gioco lo trovo veramente divertente per quanto riguarda postazione È molto vecchio stile Cioè che se si uccidono i nemici nello spawn Quelli respawnano lontano e si devono fare tutta la mappa correndo Quindi è molto divertente Si ritorna un pochino al vecchio Black Ops 2 Mi ricorda postazione L'ho provato poco, non l'ho provato dall'alto 4 contro 4 Però quello che ho visto un po' in pubblica è così Uplink non l'ho provato Per quanto riguarda il cerchio e distruggi invece è in Diciamo i settaggi sono quelli da partita random Da partita non privata ma pubblica E invece per quanto riguarda dominio e demolizione Sono ritornati, diciamo demolizione è ritornato E dominio è la classica modalità che tutti conosciamo Ho notato però una cosa molto brutta Che nella maggior parte delle modalità è molto facile fare spawn kill Molto facile tirare un hailstorm e fare una tripla, quadrupla, quintupla O addirittura sestupla Spero fixeranno questa cosa perché Sinceramente è un pochino scomoda che rinasci E ti possono sponchillare tranquillamente Ma non solo con l'hailstorm ma pure con i fucili Una volta sola perché poi respawnerete in un'altra zona della mappa Un'altra feature che mi è piaciuta di Black Ops 3 È il paint shop Divertentissimo ragazzi Divertentissimo Io mi sono fatto le mimetiche per la mia arma personale È stata veramente una figata Perché ho visto proprio quello che si può fare Si può fare il delirio Il delirio Quindi non vedo l'ora di mettermi sotto Per creare qualche bella mimetica Perché è veramente figo come si possono creare Quindi spero poi di smanettarci un pochino Sicuramente lo farò al gioco completo E oltre a questo volevo dirvi a voi Cosa ne pensate di Black Ops 3 Se mi fate sapere qui sotto le vostre impressioni I cecchini pure li ho provati E li reputo Non lo so Sono veramente forti perché mirano veramente velocemente Ma se vi sparano e l'arma vi si alza Sono un po' inutili Perché rischiate che anche un smg Prova a challengearvi A toccarvi con un colpo In modo che voi non lo possiate prendere Quindi non lo so È una cosa che odio questa cosa del flinch dell'arma Cioè che quando vi sparano vi si alza Gli smg da lontano vi challengeano Perché sono sicuri che non rinculano Perché ricordiamo che su Black Ops 3 Le armi rinculano pochissimo Vi challengeano e cercano di mandarvi tutti i colpi addosso Mentre voi non riuscite a mirarli Perché la vostra arma ha zompetta Quindi non mi piace molto questa cosa Spero la correggeranno Spero mi ascolteranno principalmente E niente Le mappe ne ho provate solo tre Che sono Evac, Combine E non mi ricordo la terza Mi dispiace Sinceramente Evac e Combine Sono le più carine La terza mappa che è Haunted Scusate ancora mi sono ricordato il nome Quella con il lago Così non mi piace tanto Troppo grande Troppi posti dove nascondersi Se non alzate la luminosità Le persone si sdraiano Nel Diciamo nell'erbetta Ai lati vicino alle rocce Non si vedono Perché sono veramente scuri Quindi ricordatevi di alzare la luminosità O rosicherete tantissimo Pure nella grotta Per quanto riguarda un'altra cosa Che è il menu Il menu mi è piaciuto molto Come è fatto Il fatto che se premete start Potete vedere il vostro bing Potete vedere il packet loss E questa è una cosa veramente molto utile E gli specialisti si sono divertenti Ma ho trovato molte cose overpower La dreadnought La pistola non è così overpower Perché ha un radio di fuoco troppo lento E non ha molta automira Però per esempio Il Diciamo come si chiama Il Lancia granate Non saprei come chiamarlo Della Della tizia col sigaro in bocca Lo specialista col sigaro in bocca E lo trovo veramente troppo forte Come trovo forte il vision pulse Che si può vedere attraverso i muri Ma come trovo forte il reject Che vi fa resuscitare Cioè ci sono certi Certi specialisti Che sono secondo me Veramente troppo forti Dovrebbero essere fixati O almeno dovrebbero fare qualcosa Per non renderli poi un Un casino all'interno del competitive Persone che usano sempre le stesse cose Che poi sono overpower Se tirano la mossa Quindi Speriamo Speriamo Per il resto Il gioco ha anche un altro difetto Secondo me c'è troppa automira L'automira è assurda Segue pure attraverso i muri E Molto fastidiosa questa cosa Perché Leva quella componente della skill Della bravura singola Nel saper mirare pure Quindi spero anche riducano questa cosa Io gioco con 4 di sensibilità su 20 Sia sull'asse X che Y Perché Sicuramente Non sembra cambiare Cioè Non mi serve a niente Cambiare la sensibilità Y Ehm Sinceramente Questa cosa dell'automira Devono fixarla Ma Come quella del rinculo dell'arma Quando vi sparano addosso Perché è fastidiosissima Cioè Non puoi seguire una persona Traversi il muro E shottarla Specialmente se gli FMJ Perché gli FMJ qua Penetrano come burro Se lo avete Dato che Ora c'è il ritorno Finalmente dei Full Metal Jacket I proiettili Che possono penetrare I muri di metallo Un'altra cosa Sono le stricca Ho trovato certe stricca Assurde Come i raps Quello che nello streaming Chiamavano i bidoni O le palle di power Che sono veramente sgravi Sono praticamente Come dei cani Che esplodono Cioè Voi mettete i cani Di Black Ops 2 E in più gli date La possibilità di esplodere Si prendono con pochissimi punti Mi pare 1200 Una cosa del genere E fanno un massacro Ragazzi Un massacro Per il resto Sono contento del ritorno Dell'Hellstorm È veramente figo È veramente figo È come quello vecchio Forse mi pare anche più veloce Aggancia il bersaglio In un modo assurdo Cioè Sempre tripla Barra Quintupla Sestupla In pubblica Ve lo dico È fortissimo Non ho visto Il Lightning Strike Sfortunatamente Non ho i token Per sbloccare Altre cose Altri specialisti Ma ho saputo Che sbloccheranno Altri livelli Fra qualche giorno Con una patch In modo che sarà possibile Livellare Sbloccare le ultime cose Che ci mancano Per sbloccare il Reaper Che dovrebbe essere Lo specialista Quello robotico Io ragazzi Spero vi sia piaciuto Siamo arrivati Alla fine del commentary Ricordatevi di scegliere Saggiamente Come spendete I token Perché ragazzi Non ne avete infiniti E poi non potete sbloccare Tutte le armi che vi piacciono Io spero vi sia piaciuto Questo video Bitches Vi saluto Vi lascio Alla fine del gameplay Let's go Bitches Ci vediamo Su Black Ops 3 C'è un car package Per chi lo vado a provare io Il car package Fatemi provarlo Fatemi provare Ok C'è il guardia Che figo Me lo metto Regà la gente che sta là Tutti i one shot Stanno Come fatela qua Guardate quanti sono Regà quanti sono Sti cosi Sono allucinanti Ragazzi Riesco a farlo Secondo voi 20k Sì Che ce la fai Dai Stastrick Stastrick È la prima Che verrà facciata Sì È troppo bugata Sì Perché è troppo forte Ma pure la macchina da guerra Che cazzo è Ci ha fatto una quadra La prima Troppo più forte Che l'arco Che non è L'arco Non è C'è No da dietro Ma che cazzo Regà Do sta No Sò sponata 15k Non so se la riesco a fare Dopo vi faccio la macchina da guerra Puntissimo Quella Sì Infatti Non è tu Io Non la devo impacciare Già adesso È inferno Dai con l'arco Dai Ce la fuori l'arco Muo dirò fuori Let's go Regà Non li trovo Più Perché Quando mette l'arco Muoio Non lo sta a prendere A quel deficiente No ma ho acceso da dietro Che sfigato Regà Non li vedo più Porca troia Vai regà Mi hanno tirato Non so cosa Sono morto Non mi vedo più nulla Vai ho preso Un'arma da te No va Ma che ha fatto Solo due kill Che non è Niente regà Non l'ho trovati R.P.G. R.P.G. Look out R.P.G. Beh C'è un'altra No io Ho trovata A terra Starma Mi piace Abbastanza Sick All mission Objektive Preparate R.P.R.E.V.A.C. Perfect Outcome Oh ma Sembra Contra Nessun Già Sentito Si È vero Aaaaa Sì 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 Sì